Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Can you hear that dream? Il torso! Guardate che imponenza mastodontico ragazzi! Enorme! Enorme! Un pezzo di torso che come vedete viene sempre costruito dal welder bot, quello che vi avevo fatto vedere presente nei file di gioco e che aumenta notevolmente l'altezza di questo gigante di metallo che molto probabilmente sarà uno dei protagonisti del termine della season 9. e molto probabilmente della season numero 10. Ragazzi un applauso al team grafico di Epic Games perché è davvero un qualcosa di incredibile anche solo esserci vicino e vederlo. Io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video, mi raccomando un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in live! Ciao! 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 Ciao!